Grazie a tutti. L'asta del 21 aprile sarà dedicata ad una collezione che io adoro, che io amo enormemente, una collezione di dipinti antichi, francamente straordinari e a condizioni di prezzo non favoribili, meravigliose. Quella che io vi devo proporre oggi è una condizione di legge, quindi è una trasmissione completamente diversa dal consueto. Oggi vi devo ricordare in questa trasmissione quelle che sono le condizioni generali d'asta, cioè quelle comuni a tutte le case di vendita italiane, europee, internazionali. Cioè noi vi diamo la descrizione dell'otto, rispondiamo della descrizione dell'otto, vi faremo vedere le opere nel fronte, nel retro, vi evidenzieremo eventuali restauri, mancanze, eccetera. Diremo quelli che sono i documenti a disposizione, quelle che sono le pubblicazioni, cioè la descrizione precisa dell'otto senza nessun commento. Senza nessun commento, cioè proprio una descrizione, quella che oggi è di moda chiamare condition report. Io più modestamente amo chiamare scheda tecnica, però condition report è più attuale, è più diffuso nella contemporaneità. Quindi una trasmissione un pochino particolare. O naturalmente, essendo un'asta ufficiale, c'è un prezzo base molto molto basso che è già stabilito, al prezzo base, quindi con un'offerta che confermi il prezzo base, possiamo già aggiudicare. Quindi le opere possono essere aggiudicate anche al prezzo base e poi sull'assegnazione è dovuto la consueta percentuale che comprensiva di tutto del 26%. Questo per chiarezza o condizione essenziale, questo l'ho ripetuto un milione di volte per le aste di arte contemporanea, figuratevi per le aste di arte antica, lo devo ripetere, 10 milioni di volte. Non si potrà partecipare all'asta se non vi siete registrati. Registrarsi è facile, come è facile leggere il catalogo d'asta, perché il catalogo d'asta è pubblicato su web, quindi lo potete leggere già da adesso. Andate sul sito arteinvestimenti.it, trovate il catalogo, trovate le condizioni d'asta, trovate le basi d'asta, trovate i moduli di iscrizione all'asta. Quindi andando su arteinvestimenti.web non solo trovate la descrizione di tutto, le basi d'asta, eccetera, ma trovate anche le informazioni per potervi iscrivere all'asta stessa. Allora, io credo di aver detto tutto, credo di aver detto tutto. Quindi cominciamo con la presentazione dei lotti, scheda tecnica, come piace dire a me. Sono 59 lotti, 59, sono 59 lotti, scheda tecnica a partire dal numero 1. Eccola qua. Il numero 1 è un maestro italiano della fine del Settecento, le dimensioni sono 14,5 x 18, è una penna a inchiostro marrone, la base d'asta è di 150 euro. Vi devo far vedere il retro, se non sbaglio, vi devo far vedere, avete visto il fronte, vi devo far vedere il retro dell'opera, è in uno stato di conservazione buono, non ci sono difetti particolari, ma naturalmente lo stato di conservazione buono è riferito giustamente ad un'opera del Settecento, ad un'opera della seconda metà del Settecento. Questo è il numero 1. Poi al numero 2 andiamo a qualche anno dopo, eccolo qui, è un maestro neoclassico, studio per un monumento, la datazione è legata ai primissimi anni del XIX secolo, le dimensioni sono 15 x 18, la tecnica è un inchiostro marrone, anche qui la conservazione la posso definire tranquillamente buona, quindi la base d'asta è anche qui molto modesta, di 150 euro. Questo è il lotto numero 2. Scusate, devo far vedere bene il retro, eccolo qui, eccolo qui, perfetto. Poi con il numero 3 delizioso ce ne andiamo a Venezia, è sempre un disegno, naturalmente vedrete delle frammentazioni, perché all'epoca queste opere erano disegnate su libri che poi venivano strappati, quindi vedete i segni dello strappo. È una deliziosa Diana al bagno del XVIII secolo, potrei dire tante cose in più, ma quelle ve le dirò poi in trasmissione normale. Io ora mi devo riferire al catalogo, quindi a una scheda tecnica. Vi faccio vedere il retro, dove c'è una bellissima trasparenza, le misure sono 18 x 13,5, la tecnica è una penna ad inchiostro marrone, questo è il numero 3. Poi al numero 4, piacevolissima, qui siamo nel Veneto, tranquillamente nel Veneto, siamo nella seconda metà del 700, quindi tra il 1770 e il 1780, le dimensioni sono 20 x 14,2, la tecnica è una penna ad inchiostro marrone, faccio vedere anche il retro dell'opera, eccola qui, questa è la numero 4. Poi alla numero 5, questa è un'opera molto interessante, proprio dal tratto vedete che siamo molto vicini ad un artista della caratura di Giovanni Battista Tiepolo, nella scheda si parla di Seguace di Gian Battista Tiepolo, c'è questo personaggio orientale, vestito all'orientale, con una figura accanto, la datazione è legata alla seconda metà del XVIII secolo, le dimensioni sono 18 x 13,5, e vi faccio vedere il retro, la tecnica è ancora una volta una penna, questa volta ad inchiostro nero, questa volta ad inchiostro nero, è stato di conservazione buono, vedete una piccola mancanza nella parte superiore, evidentemente l'avevano appeso e poi strappato, quindi una piccolissima mancanza nella parte superiore, questo è il numero 5, scusate, base d'asta 200 euro, base d'asta 200 euro. Poi al numero 6 c'è una cosa molto molto interessante, è che qui ci hanno messo l'etichetta davanti, il che... ma guarda, lo tolgo dalla... guardate che cos'è, guardate che cos'è, guardate che cos'è, è evidentemente tolto dalle illustrazioni di un libro, ma è di una bellezza, già sto commentando e non lo dovrei fare, quindi, maestro francese del XIX secolo, il volo della mongolfiera, 26,5 per 19,8, penna nera, inchiostri colorati e oro, penna nera, inchiostri colorati ed oro, il retro, vedete, ci sono tracce della scritta, perché evidentemente è tagliato da una pagina di libro. Questo è il numero 6, la base d'asta è 300 euro, 300 euro il numero 6. E siamo arrivati al numero 7, siamo nel 700, è uno studio di figura, e naturalmente siamo nel Veneto, siamo nel Veneto, nel pieno 700, è questo studio di figura 22 per 8,8, una penna a inchiostro marrone e vedete che ci sono delle tracce di ruggine, vi faccio vedere il retro, eccolo qua, tracce di ruggine ai bordi, ecco il retro. La base è di 100 euro, la base è di 100 euro. I primi sette lotti, come avete visto, sono sette disegni d'epoca. Poi, al lotto numero 8 cominciamo con i dipinti e siamo di fronte a due opere, due paesaggi romani, siamo nella seconda metà del 700, le dimensioni sono 35 per 47, sono due dipinti ad olio su tela. Attenzione, attenzione, sono due dipinti ad olio su tela, tutte e due ancora in prima tela, tutte e due ancora in prima tela, con le cornici originali dell'epoca. Inutile che vi dica che le cornici vanno restaurate, sono quelle originali del 700, mai toccate. Le due opere sono in prima tela, quindi non c'è stata pulitura, non c'è stato intervento di restauro, non c'è stato rintelo, sono tutte e due in prima tela, mi sembra, fai vedere pure l'errore, ecco, una delle due ha una rottura, lo puoi far vedere, eccolo qui, vedi? C'è una piccola mancanza di pittura, è un'abrasione, un taglio sulla tela, ma del resto sulle opere in prima tela, diciamo che è un pregio, diciamo che è letteralmente un pregio, o le cornici sono coeve, il telaio è originale, non è un telaio rimesso, ma è ancora il telaio dell'epoca, quindi devo dire due opere in prima tela, con i difetti e i danneggiamenti minimi che si possono avere su delle opere in prima tela. La base è 1500 euro per la coppia, 1500 euro per la coppia a voi. Il numero 9, ce ne andiamo in Lombardia, è un bellissimo ritratto di gentiluomo, 56 per 48, ancora da pulire, ancora da pulire, sicuramente è un'opera eseguita in Lombardia, le dimensioni della tela sono 56 per 48, andiamo ad esaminare anche il retro, c'è un numero di collezione, 9482, che sicuramente si riferirà alla collezione originaria, poi sul telaio c'è un CF che dovrebbe essere successivo, naturalmente successivo all'opera. la base, siamo intorno al 1580 come datazione, la base è 2000 euro. Lotto numero 10, un'opera sicuramente eseguita a Venezia, nello stile di Marco Marcola, quindi molto probabilmente bottega di Marco Marcola, siamo nel XVIII secolo, è un olio su tela 64 per 93 le dimensioni, devo dire uno stato di conservazione buono, cornice, cornice antica, facciamo vedere il retro perché l'opera ha subito un rintelo, vedete, c'è un rintelo tutt'altro che il recente, quindi c'è un rintelo molto anziano, più anziano di me, più anziano di me. Va in asta al numero 10, questa scena di carnevale, la base è 1800 euro. E siamo arrivati al notto numero 11, che sono altri due dipinti in relazione a quelli che abbiamo visto all'otto numero 8, quindi evidentemente era una serie di quattro dipinti dello stesso artista, ancora da pulire, sono paesaggi romani della seconda metà del Settecento, cornici antiche del Settecento, coeve da ristaurare, anche questi in prima tela, questa volta senza quel piccolo taglio, senza quella piccola mancanza. Le dimensioni sono 35 per 47, la base è 1500 euro. Rivediamo il retro, ecco vedete i cornici dell'epoca, telai dell'epoca, prima tela con un restauro tutt'altro che recente, vedete quell'applicazione su una delle due tele, ottocentesca, quindi cosa datata, sicuramente datata. Questo è il numero 11 e come gli altri la base è di 1500 euro la coppia. Al numero 12 andiamo nell'ambito dei grandi pittori fiamminghi con tradizioni di soggiorno in Italia, siamo nell'ambito un seguace di David Nier, il soggetto è legato alle tentazioni di Sant'Antonio, inutile dire che siamo nel pieno 600, siamo nel pieno 600, le dimensioni sono 45 per 60, è un olio su tela ben conservato, rintelato nell'800, facciamo vedere il retro, facciamo vedere il retro, c'è un rintelo di tanti anni fa, c'è un rintelo ottocentesco, anche il telaio non è più quello originale, ma è un telaio ottocentesco, la cornice più recente, la base è 2000 euro. La base è 2000 euro. Eccolo qui, il lotto numero 12. Con il numero 13 torniamo in Italia, torniamo in Italia, dipinto molto interessante, siamo nell'ambito di Bartolomeo Pedon, siamo proprio tra la fine del 600 e l'inizio del 700, siamo proprio all'inizio del 700, io direi, è un olio su tela 24 per 37, qui lo stato di conservazione è molto buono, il quadro è pulito, è molto interessante, la cornice antica ha bisogno più che di restauvi, di ritocchi, ha bisogno, puoi vedere lì alla base c'è una leggera mancanza, quindi ritocco alla cornice, andiamo a vedere il retro, e abbiamo la conferma che la cornice è del 700, abbiamo la conferma che non è quella originale, pur essendo una cornice antica. Il dipinto è stato rintelato molto tempo fa, c'è un rintelo, io lo definirei addirittura ottocentesco, come anche il telaio è coevo al rintelo. La base, scusatemi, è di 1000 euro, la cornice, ma non devo commentare, non devo commentare, la cornice vale di più, però non devo commentare. Questa è un'opera già celebre, al numero 14, questa battaglia tra cavallerie europee con fortificazione sulla sinistra, è un'opera di Marzio Masturzo, Marzio Masturzo è un pittore molto conosciuto, un allievo di Salvatore Rosa, e il dipinto è periziato dal professor Giancarlo Sessieri, che lo ha pubblicato a pagina 54 del libro Le Pugne, quindi Le Battaglie, è proprio un libro di Giancarlo Sessieri. Io qui la perizia non la vedo, però vedo, però c'è la pubblicazione. Molti documenti non ci sono stati consegnati, però c'è la pubblicazione. L'opera rintelata, cioè l'opera perfetta, restaurata, cioè in uno stato di conservazione pittorico perfetto, rintelata e telaio nuovo per la conservazione dell'opera stessa, ha una vecchia cornice che invece avrebbe bisogno di qualche ritocco, ma piccole cose. Opera pubblicata, ve lo ripeto, pubblicata sulle battaglie di Giancarlo Sessieri, la base è 3.000 euro, è il numero 14. Al numero 15 vediamo una bella opera di dimensione, molto gosiana, non a caso legata ad un seguace di Salvatore Rosa. Potremmo dare dei suggerimenti, ma essendo scheda tecnica mi astengo dai suggerimenti. Tra l'altro ci sono tracce di firma, tra l'altro ci sono tracce di firma, quindi è un quadro importante, è un quadro interessante, molto gosiano, vedete il tema, questo paesaggio con i soldati, con la montagna, molto gosiano, è un olio sottile 73x97, vediamolo al retro, una vecchia cornice, una bella cornice ottocentesca, rintelato e conservato a livello museale, come devono essere conservati i quadri, cioè quando non vengono rintelati e quando non viene dato un telaio nuovo, giusto, le cose antiche sono cose antiche. Quindi direi buono lo stato di conservazione, sulla base d'asta mi astengo dai commenti, è 1.800 euro. è 1.800 euro. E siamo arrivati all'otto numero 16, che adoro, che adoro, che adoro, ma questo è un mio intervento. È un autoritratto giovanile di uno dei più clamorosi pittori del 700 lombardo, Giacomo Sceguti. Le dimensioni sono 41x29, è una carta, è una carta intelata, è una carta intelata e naturalmente essendo un autoritratto giovane, è un'opera giovanile dell'artista, vediamo il rete, naturalmente vediamo la tela dove è stata applicata la carta, vediamo un vecchio telaio e vediamo una cornice ottocentesca. Oh, questo autoritratto ha una base di 1.500 euro. Ha una base di 1.500 euro. Non dico altro. Non dico altro perché devo fare delle schede tecniche. Prego. Siamo arrivati al numero 17. Questo riposo durante la fuga in Egitto. Se guardate il dipinto, si riferisce ad un dipinto celeberrimo. Questa scena, l'identica scena, la vedete rivoltata, cioè proprio ribaltata, speculare, nel mitico dipinto di Federico Fiori, detto il Berocci, che oggi è conservato alla Pinacoteca Vaticana. Riposo durante la fuga in Egitto. L'opera è pubblicata a pagina 23 del libro edito da Maritti, il 600 dopo Caravaggio, Il Realismo. Quindi opera pubblicata a pagina 23 del libro, il realismo. Base 2.500 euro. Ecco qui il retro dell'opera. Vedete un rintelo tutt'altro che recente, un telaio più recente del rintelo, un telaio più recente del rintelo e una cornice anteguerra, ante seconda guerra mondiale. Ante seconda guerra mondiale. Stato di conservazione pittorico, ottimo. Questo è il numero 17. La base d'asta, meno male che c'è Carmelo che mi riprende. La base d'asta, amici, 2.500 euro. Non ci sono commenti da fare. Non ci sono commenti da fare. Prego. Bottriga di Bernard Van Ontors, Martirio di San Sebastiano. Quest'opera, voi sapete, riprende il soggetto dipinto da Ontors, oggi conservato alla National Gallery a Londra. L'opera è misura 109 per 137. devo dire che l'opera che state leggendo ha subito restauri, ma siamo di fronte ad un dipinto eseguito intorno al 1620. Andiamo a vedere il retro. C'è molto da dire su questo dipinto. c'è molto molto da dire su questo dipinto. Andiamo a vedere il retro. C'è un rintelo ottocentesco con un telaio ottocentesco, quindi un restauro datato. C'è una bella cornice vecchia. Dire antica è troppo. dire antica è troppo. Pubblicato, anche questo, a pagina 41 del libro Il realismo dopo Caravaggio, edizione Maritti. Prego. Ah, la base d'asta, scusatemi. La base d'asta, amici, un quadro del genere è 2.000 euro di base d'asta. Quindi, per me è come non esistessero. Per me è come non esistessero le basi d'asta. Lotto numero 19. Siamo intorno al 1500, siamo nella seconda metà del 500. È una tavola, è una tavola meravigliosa, conservata in maniera strepitosa. È un San Francesco. Le dimensioni sono 76 per 55. Inutile dire che lo stato di conservazione è molto, molto buono. C'è qualche piccola caduta di colore, ma è evidente che siamo di fronte a un quadro del 500 che non ha subito ristauri importanti. Vediamo in retro. La tavola è quella originale del 500, alla quale sono stati applicati nell'800 due rinforzi. Perché? Perché come accade a tutti i dipinti sul legno, il legno si piega nel tempo. Quindi nell'800 gli hanno applicato quei due rinforzi. Le dimensioni sono 76 per 55. L'opera è pubblicata sul Tempo di Van Dyck, catalogo della mostra al castello di Desenzano del Garda. La base? 2000 euro. La base? 2000 euro. Amici, non ci sono commenti. Non ci sono commenti. All'otto numero 20 troviamo un quadro molto, molto interessante, giustamente attribuito a Jan Pieter Verdussen. Jan Pieter Verdussen è stato a Torino per tanti anni ed è stato colui che ha accompagnato il re di Savoia nelle sue campagne militari. Quindi il dipinto che stiamo leggendo raffigura l'incontro tra l'esercito di Savoia e l'esercito austriaco nella prima metà del Settecento. Quindi come pittore di corte dipingeva i grandi eventi della vita del re, della vita della casa reale. È un olio su tela, 65 per 80, inutile dire che siamo nel pieno Settecento. La cornice è ottocentesca, la cornice è dell'Ottocento, giriamolo. Inutile dire che la cornice ha bisogno di qualche restauro, questo è normale. Ha subito, ha subito, ha goduto di un rintelo di un centinaio d'anni fa con un telaio coevo al rintelo. Base d'asta, 3.000 euro. Non devo commentare. E poi al numero 21. Io li farei vedere insieme, perché tanto sono coevi. Sono due lotti. Numero 21 e numero 22. Li hanno divisi, sono due tempere su carta pergamena, sono dei capricci di Marco Ricci. Conservazione perfetta. Conservazione perfetta. Tempere su pergamena, due capricci di Marco Ricci. Inutile dire che siamo all'inizio del Settecento. Le dimensioni sono 31 per 43. Facciamo vedere il rovescio, ma praticamente vedete, sono due cartoncini che sostengono la pergamena sottostante. Quindi sarebbe dato l'immunità di uno, perché sono proprio due cartoncini recenti che l'hanno fissati le pergamene sottostanti. Le cornici sono antiche, deliziose. Amici, 2.000 euro ciascuno. 2.000 euro ciascuno. Due tempere su pergamena preziose legate al nome di Marco Ricci. Poi, all'otto numero 23 c'è un grande quadro. Questo che viene definito ritratto enigmatico. E qui, questo è uno di quei quadri che fanno impazzire gli storici dell'arte, i critici dell'arte. A Napoli lo chiamerebbero il ritratto di un femminiello. È un olio sottila, un metro e 31 per un metro, legato proprio alla problematica Angelo Caroselli, Pseudo Caroselli. Ci sono libri, ci sono decine di libri di storici dell'arte, di critici d'arte dedicati a questo tema. È una tela di un metro e 31 per un metro, conservata, devo dire, in maniera perfetta, conservata in maniera straordinaria. La cornice è bella, ma recente. Al retro vediamo un vecchio rintelo e un vecchio telaio coevo al rintelo. Un vecchio rintelo e un vecchio telaio coevo al rintelo. La base per un'opera perfettamente conservata è 3.000 euro. La base è 3.000 euro. Quindi io non voglio commentare. Non devo commentare. Prego. Passiamo all'otto numero 24, dove troviamo quest'opera che è un olio su tavola, 55 per 48, tipica di Giovanni Martinelli, questo pittore fiorentino straordinario che qui ci ritrae questa splendida Sant'Ursola. Inutile dire che siamo nel pieno 600, la cornice è meno e posteriore. È una tavola con uno stato di conservazione, devo dire, straordinario. Vediamolo al retro, come tutte le tavole c'è un'applicazione di rinforzo, lo vedete, ottocentesca. Poi c'era un cartiglio che non si legge più, vero? C'era un cartiglio che è diventato illegibile. Opera pubblicata a pagina 49 del libro Il Seicento dopo Caravaggio, base d'asta 3.000 euro. Base d'asta 3.000 euro. E siamo arrivati all'otto numero 25, dove troviamo questo raffinato dipinto, questo Davide con la testa di Golia. Siamo nella prima metà, nella primissima metà del Seicento. È un olio su tela 70 per 50, c'è un linguaggio pittorico strepitoso, giriamolo pure, telaio dell'Ottocento, rintelo ottocentesco, rintelo ottocentesco con un numero di collezione, vedete, evidentemente proviene da una delle grandi collezioni romane, quelli erano i numeri caratteristiche, questo è meno importante, questo è legato agli ultimi proprietari, più recente, mentre importante è quel 636 che evidentemente testimonia che questa opera era in una delle collezioni romane storiche, e non voglio dire di più, base d'asta 2.500 euro. Base d'asta 2.500 euro. All'otto numero 26 troviamo... All'otto numero 26 troviamo una grande tela, molto interessante, questa marina in tempesta, siamo intorno alla fine del Settecento, le dimensioni della tela sono un metro e cinquanta per novantasei, l'opera è legata proprio all'ambiente di Francesco Fidanza, all'ambiente di Francesco Fidanza, vi ripeto, siamo tra la fine del Sette e i primi dell'otto, questa grande tela con una cornice vecchia da restaurare, è una cornice che ha bisogno di restauri e vediamo il telaio, vediamolo sul retro, vedete anche qui ha subito un rintelo tanti anni fa e più recentemente gli hanno applicato dei correttivi che leggete proprio per sostenere la superficie pittorica. La base di questo grande dipinto è 1.000 euro. Quando vi dico che è un'asta clamorosa non vi dico altro. Questo è l'otto numero 26. All'otto numero 27, un dipinto molto particolare, siamo nell'ambito di Mattia Preti, quindi siamo nella seconda metà del Seicento, le dimensioni della tela sono un metro per settantotto, raffigura San Giuseppe, molto rara, la raffigurazione è molto rara, San Giuseppe e il bambino, vedete quel bambino con la testa sferica, che è un po' una caratteristica di Preti, la cornice è bella ma recente, la cornice è bella ma recente, l'opera ha subito un rintelo da tempo, tanti anni fa, vediamo pure il retro, l'opera è stata rintelata per conservazione tanti anni fa, è pubblicata sul Seicento dopo Caravaggio, ha una base di 5.000 euro, ha una base di 5.000 euro. No commento. Lotto numero 28, quadro, un San Francesco in penitenza della seconda metà del Cinquecento. Un San Francesco in penitenza non devo usare aggettivi, no, non devo usare aggettivi, non devo usare aggettivi, quadro perfetto della seconda metà del Cinquecento, quadro che non ha un ritocco, non ha un restauro, pensate che è un'opera del 1570, 1580, perfetta. La cornice è del Seicento, ha bisogno di restauri, ma è una cornice del Seicento che da sola vale 6.000 euro, 7.000 euro. È una cornice del Seicento vera che queste cornice si usavano a Roma per incorniciare le opere di Paolo Brill. Quindi il quadro è della seconda metà del Cinquecento, la cornice è dei primissimi del Seicento, ma evidentemente è considerato un quadro strepitoso già all'epoca. rintelo, vediamo il retro, vecchio rintelo, vecchio rintelo intendo 50-60 anni fa, con telaio di 50-60 anni fa, ma venendo là dietro la cornice è proprio pieno Seicento, strepitosa. Base d'asta, per un'opera di questo livello, 5.000 euro. Base d'asta, 5.000 euro. Pubblicato a pagina 19 del libro Il realismo dopo Caravaggio. Pubblicato a pagina 19. Al numero 29, un altro di quei dipinti Giacinto Brandi. Giacinto Brandi, siamo a Roma, 1650-1660, una tela 98x73, pubblicata anche questa, a pagina 50 del libro Il Seicento dopo Caravaggio, stato di conservazione meraviglioso. Stato di conservazione meraviglioso. Non so se la cornice ha bisogno di restauri, ma la cornice è antica, è coeva, anche questa altra cornice è meravigliosa. Vediamo il retro, naturalmente rintelo il telaio di una cinquantina d'anni fa, ma quadro in uno stato di conservazione superbo. base d'asta, 5.000 euro. Base d'asta, 5.000 euro. Inutile dire che è una collezione strepitosa al realizzo. 5.000 euro. Poi, un'opera molto particolare, un quadro ancora da pulire, ma bello, bello, bello. Anche questo pubblicato. Questo è pubblicato come Faustino Bucchi, ma invece c'è una correzione, giustamente, secondo me, in questo catalogo lo danno come Enrico Albricci. Quindi, quelle mitiche opere caricaturali ad olio su tela, 84 cm di altezza per 1,27 m, legate al nome di Enrico Albricci, le tipiche opere caricaturali bresciane, popolari, straordinarie, cornice recente, rintelo, vediamolo, rintelo anche questo tutt'altro che recente, stato di conservazione molto buono, stato di conservazione molto buono anche se una pulitura non gli farebbe male, base d'asta 3.000 euro. Base d'asta 3.000 euro. E siamo arrivati al numero 31. Sono dei tulipani, carofani, giacinti, dalie ed altri fiori in un vaso dorato dipinto nel 1680 da Andrea Scacciati. Quadro in stato di conservazione molto molto buono, cornice bella ma recente, rintelato e telaio recente. Per la conservazione dell'opera che vedete è in uno stato di conservazione pittorico molto molto buono. la base è 5.000 euro. Vediamo il retro. Vedete un rintelo di una trentina d'anni fa con un telaio coevo al rintelo. Eccolo qui. Questo è il numero trentuno. Poi al numero trentadue vedete un ecce omo della mitica tradizione genovese. Siamo nel pieno seicento Giovanni Andrea Ansaldo una tela una tela di un metro per 87 una tela di un metro per 87 stato di conservazione ottimo mi viene sempre la voglia di commentare ma non devo commentare vediamo in retro cornice recente ma bella cornice ottocentesca ma bella rintelo e telaio di una cinquantina d'anni fa base d'asta per quest'opera di Giovanni Andrea Ansaldo 8000 euro 8000 euro e siamo all'otto numero 33 Gian Giuseppo del Sole Maddalena in Estasi Gian Giuseppo del Sole Maddalena in Estasi cornice intagliata splendida antica rintelata tanti anni fa con telaio di tanti anni fa l'opera proviene lo vuoi far vedere l'opera proviene dalla celebre asta della collezione Sgarbi Cavallini eccola qua pubblicata all'otto numero 106 pubblicata all'otto numero 106 non vi do le cifre di allora non vi do le cifre di allora ma sono molto molto diverse la base d'asta è 5000 euro la base d'asta è 5000 euro l'otto numero 34 poi all'otto numero 35 c'è un'opera che trovo di una bellezza strepitosa viene definito paesaggio protoromantico ma molto probabilmente è un ingresso della sacra famiglia a Gerusalemme nella Pasqua vedete la palma sullo sfondo Giuseppe Maria no scusami sto sbagliando io ho sbagliato il numero 34 sbagliavo in pieno questo è il numero 34 è Francesco de Mura Sant'Andrea il mitico pescatore di anime il mitico pescatore di anime quadro quadro pazzesco del 700 napoletano quadro straordinario del 700 napoletano 102 per 76 la tela cornice splendida antica telaio ottocentesco con rintelo dell'epoca conservazione perfetta sapete che cosa vuol dire un quadro del 700 con una conservazione assolutamente perfetta perfetta base d'asta 5.000 euro base d'asta 5.000 euro non ho parole bello dappertutto non ho parole e al 35 andiamo invece a quel Manglard che avevo anticipato altro quadro particolare altro quadro di altissimo livello anche questo con uno stato di conservazione praticamente perfetto una cornice coeva meravigliosa nel catalogo viene descritto come paesaggio protocomantico in realtà guardandolo bene è una sacra famiglia che attende l'ingresso della Pasqua a Gerusalemme quadro strepitoso siamo nella metà del 700 è una tela di un metro e quindici per 85 stato di conservazione come il precedente perfetto base d'asta 8.000 euro base d'asta 8.000 euro perfetto meraviglioso quadro straordinario quadro straordinario vedete c'è il numero di inventario qui lo sai che siamo ancora in prima tela lo sai che siamo ancora in prima tela hanno rimesso il telaio hanno rinforzato un lato del quadro e ci sono ancora i numeri di collezione originaria quadro strepitoso questo è il lotto numero 35 poi all'otto numero 36 questa veduta di Roma con rovine tipica di Giovan Battista Busiri 72 per 97 le dimensioni c'è una perizia del professor Gianfranco Sessieri ma io non la trovo quindi non trovandola io vi dico solamente che c'era ma l'attuale proprietario non ce l'ha consegnata quindi non l'abbiamo in mano la cornice è antica il rintelo di tanti anni fa lo stato di conservazione è ottimo la cornice avrebbe bisogno di qualche piccolo ritocco come spesso accade alle cornici d'epoca opera da collezione la base è di 10.000 euro la base è di 10.000 euro lotto numero 36 all'otto numero 37 c'è uno dei quadri perfetti guardate qui la cornice è molto bella ma non è antica il quadro è straordinario il quadro è perfetto la cornice ha bisogno di un restauro se non vado errato ah no 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 vabbè forse qualche ritocchino però è una bellissima cornice ma non antica il quadro è perfetto legato alla cultura Bologna-Brescia del 700 questa assunzione di Maria di un metro e settanta per un metro e trenta stato di conservazione perfetto stato di conservazione straordinario è una di quelle opere di quel Francesco Monti che non deve essere confuso con il Francesco Monti delle battaglie che sono due pittori completamente diversi l'opera vi ripeto stato di conservazione perfetto viene dalla mitica collezione Algranti e i collezionisti di dipinti sanno cosa ha significato Gilberto Algranti nel collezionismo della seconda metà del XX secolo opera perfetta che viene dalla collezione Algranti la base d'asta è 20.000 euro amici facciamolo vedere che è anche il retro rintelo di tanti anni fa cornice non antica un rifacimento ma ben fatto molto ben fatto stato di conservazione del manto pittorico perfetto lotto numero 37 bello è proprio bello è lo so che ti stai attenzione attenzione anche all'otto numero 38 perché c'è un altro quadro estremamente interessante quadro da Torino da da Pinecoteca Sabauda quadro straordinario al numero 38 vedete un'opera firmata di Ludovico Raymond La Trattativa inutile dire che siamo nella seconda metà dell'Ottocento la cornice coeva e ha bisogno di qualche restauro rintelo vecchio ma poi lo vedremo stato di conservazione perfetto dimensioni un metro e dieci per un metro e settantacinque opera firmata non posso che dire cornice coeva nata con il quadro non posso che dire uno dei quadri più importanti della storia di Ludovico Raymond un metro e dieci per centosettantacinque le dimensioni la base d'asta cinquemila euro la base d'asta cinquemila euro numero 38 questo grande dipinto di Ludovico Raymond poi inutile dire che come tutti i quadri un po' scuri dal vivo è molto più bello siamo arrivati all'otto numero 39 39 all'otto numero 39 è un grande quadro dopo la caccia attribuito a Jacques Mille Blanche siamo nella seconda metà dell'Ottocento siamo nella seconda metà dell'Ottocento è una grande tela di un metro e 95 per un metro e 30 stato di conservazione media medio ci sono dei restauri ci sono dei restauri non eclatanti ma ci sono dei restauri cornice molto bella ma più recente andiamo a vedere sul retro anche se le dimensioni sono estremamente importanti un attimo perché naturalmente essendo un dipinto di dimensioni importanti ecco qui il retro dipinto che ha subito un rintelo questo dopo la caccia anche qui la base è 3000 euro anche qui la base è inesistente addirittura 3000 euro e siamo arrivati alla numero 40 siamo arrivati al numero 40 un'altra delle opere che adoro questa è un'opera di Hendrik Franz van lint ci sono tracce di firma al centro del dipinto è un dipinto di 57 centimetri per 110 la cornice è molto bella ma recente è molto bella ma non lo so sarà stata eseguita 20 anni fa 30 anni fa ma comunque non è antica rintelo perfetto di una cinquantina d'anni fa ora vedrete il retro stato di conservazione perfetto stato di conservazione nemmeno a dirlo perfetto opera preziosa di Hendrik Franz van lint base d'asta 15.000 euro base d'asta 15.000 euro brevissima pausa brevissima pausa per ricordarvi che questa è un'asta ufficiale io sto dando quelle che amo chiamare le schede tecniche che oggi coloro che sanno chiamano condition report quindi coloro che sanno le chiamano così quindi mi devo astenere da commenti devo dirvi solamente cosa rappresenta lo stato di conservazione eccetera l'asta è un'asta ufficiale si terrà il 21 di questo mese come consuetudine di arte investimenti la domenica domenica 21 con inizio alle ore 10 offremo anche delle trasmissioni in cui vi presenterò le opere in maniera meno tecnica è più scientifica è più scientifica perché confondere la tecnica con lo scientifico è un grave errore è un grave errore ma a prescindere di questo avrete notato vi sto dando le basi d'asta sono basi d'asta ridicole però vi devo avvertire che possiamo addirittura aggiudicare alla base d'asta perché se la base d'asta viene confermata e non ci saranno offerte superiori l'opera verrà aggiudicata alla base d'asta a cui verranno aggiunti i diritti consueti il 26% compreso tutto dei diritti d'asta comuni al regolamento di tutte le case d'asta europee però una cosa ve la devo dire ed è molto importante voi troverete il catalogo delle opere che vi sto presentando sul sito di arteinvestimenti.it quindi potete consultare il sito troverete il catalogo completo in modo che vi potrete soffermare sulle opere che vi interessano di più potete studiare le opere che vi interessano di più e la cosa molto importante che ci tengo a sottolineare è che nessuno nemmeno mio figlio nemmeno mia moglie potrà partecipare all'asta se non si è iscritto all'asta lo ripeto nessuno potrà partecipare all'asta vi faccio l'esempio potrebbe essere mio figlio potrebbe essere mia moglie sarò a conoscenza di mio figlio e mia moglie non potrei accettare le loro offerte se loro non fossero iscritti all'asta dato che per consultare il catalogo andate sul sito di arteinvestimenti.it sullo stesso sito trovate tutta la documentazione necessaria per iscriversi all'asta oppure potete telefonare qui in sede e vi aiuteranno i nostri collaboratori a compilare i moduli necessari per iscrivervi all'asta chi si è iscritto alle aste precedenti è già considerato iscritto quindi chi si è iscritto già a qualcuna delle aste anche di moderno precedenti è iscritto quindi si può considerare iscritto mi ricorda Carmelo che non non più lontano di domenica scorsa ha telefonato mentre eseguivamo l'asta di moderno un ministro della repubblica naturalmente non vi dico chi naturalmente non vi dico chi ma non abbiamo potuto accettare la sua offerta perché non era iscritto ma sono ministro questo per farvi capire come sia assolutamente necessario iscriversi all'asta allora continuiamo la lettura delle schede tecniche quello che viene definito il condition il condition report ma guardate che quadro guardate che quadro questo è celeberrimo questo è uno dei quadri più celebri del seicento qui se c'è uno studioso che non lo conosce gli devo dire ma che razza di studioso sei torna a scuola perché uno studioso che non conosce questo quadro non può essere definito studioso è uno dei quadri celeberrimi del seicento è uno dei quadri celeberrimi di Alessandro Tiarini pubblicato da Pirondini Alessandro Tiarini da scuola di Caracci dall'Accademia alla bottega di Ludovico pubblicato da Negro Pirondini a pagina 311 pubblicato anche sul libro di Roio dedicato a Giacomo Cavedone pagina 61 nota 27 pubblicato sulla monografia di Negro dedicata ad Alessandro Tiarini scheda 251 pagina 270 tavola 81 provenienza collezione Cavallini Sgarbi quindi pubblicato anche sul catalogo eccolo qui pubblicato anche sul catalogo della vendita Cavallini Sgarbi che vi ho fatto vedere anche in precedenza non vi dico le stime non vi dico le stime ma tanto le trovate dappertutto perché questo è un quadro pubblicato un mare di volte le dimensioni sono 130 per 140 è un olio sottila in ottimo stato di conservazione la base d'asta è 20.000 la base d'asta è 20.000 euro non ho commenti da fare quadro talmente celebre talmente importante che non ci sono commenti da fare questo è l'otto numero 41 poi all'otto numero 42 c'è un altro quadro celeberrimo c'è un'altra opera celeberrima altro quadro da follia Giovanni Baglione Venere che consegna le armi ad Enea 103 per 78 le dimensioni opera pubblicata dal Marini del 2002 che lui data tra il 1621 e il 1622 c'è anche una perizia di Sestieri che invece lo data ad un'epoca precedente cornice meravigliosa ci sono dei piccoli restauri da fare alla cornice ci sono dei piccoli restauri da fare alla cornice le dimensioni ve le ho dette l'opera è pubblicata da Marini in Il Cavaliere Giovanni Baglione pittore quattro quadri e un documento inediti di Giovanni Baglione Marini pagina 17 base d'asta 10.000 euro poi ti viene voglia di commentare naturalmente questo è il numero 42 no poi scusami il 43 eccolo qui il 43 è un San Pietro un San Pietro Veneto di Maestro Veneto siamo nel 700 le dimensioni sono contenute 47 per 39 è un olio su tela molto ben dipinto la base d'asta è 800 euro la base d'asta è 800 euro questo è il numero 43 eccolo qui numero 44 siamo nell'800 più esattamente verso la fine dell'800 un acquerello su carta di Salvatore Postiglione questo suonatore di violoncello 43 per 30 è una carta quindi dietro c'è una carta di conservazione base d'asta 500 euro numero 44 poi numero 45 qui torniamo nei grandi quadri del 700 Ignazio Stern detto Stella questa danza degli amorini nel fiume questa opera è pubblicata pagina 69 del libro il 600 dopo Caravaggio come Filippo Mauri ma i nostri esperti lo hanno riportato secondo me giustamente a Ignazio Stern cornice antica da restaurare rintelo di tanti anni fa conservazione pittorica molto buona base 2500 euro numero 46 nello stile veneziano tipico del 700 questo doppio ritratto di famiglia questo doppio ritratto in ovale siamo nel 700 le dimensioni sono 107 per 83 opera in buono stato di conservazione con una vecchia cornice base d'asta 1500 euro non ci sono commenti da fare 1500 euro questo è il numero 46 numero 47 è un quadro estremamente interessante scusatemi dobbiamo vedere il retro di quest'opera eccolo qui vecchio quintelo vecchio telaio vecchia cornice il tutto in ottimo stato di conservazione numero 47 eccolo qui il numero 47 lo adoro lo adoro in cornice antica maestro dei riflessi interno veneziano non commento olio su tela 43 per 57 dico che siamo nel pieno 700 2000 euro maestro dei riflessi è il numero 48 un'opera dell'ottocento che adoro questo è un pittore di zafferana etnea Giuseppe Sciuti Giuseppe Sciuti guardate questo è un quadro che dovete leggere nei particolari c'è Bellini che dorme proprio sul divano disteso sul divano se andate a leggere nei particolari gli spartiti che in mano sono gli spartiti della mitica norma la mitica norma in pratica è Bellini che viene ispirato dalle muse dalle grazie che gli ispirano i temi fondamentali della norma non devo commentare scheda tecnica però Giuseppe Sciuti 36,5 per 46,5 stato di conseguenza ottimo va solo verniciato va solo un po' verniciato perché la pittura è un pochino secca soltanto verniciato il quadro lasciamo perdere 3000 euro 3000 euro 3000 euro 3000 euro quindi al numero 49 opera firmata e datata e non basta perché è dedicata a Franco Berardi dedicata a Franco Berardi il ritratto di Furio Berardi dedicata a Franco Berardi il ritratto di Furio Berardi siamo nel 1906 perché l'opera è anche datata ed è un'opera di Juan Pablo Salinas de Spinosa un olio su tela 42 per 54 di un artista che conoscete per altri soggetti ma è uno degli artisti più costosi della fine dell'ottocento a Roma 1000 euro 1000 euro numero 49 poi numero 50 ah scusatemi siamo ancora sul 49 vediamo il retro numero 50 maestro veneto del 700 episodio della via crucis le dimensioni sono 67 per 51 virgola 5 siamo a Venezia nella seconda metà del 700 stato di conservazione buono 800 euro 800 euro 800 euro quindi all'otto numero 51 questo grande dipinto veneto siamo verso la fine del 600 il miracolo dei pani e dei pesci una tela di un metro e 22 per 94 con una bella gornice vediamo anche il retro base d'asta 1500 euro base d'asta 1500 euro vecchia cornice vecchio gintelo vecchio telaio 1500 euro lotto numero 52 maestro genovesi del 700 ancora da pulire ancora da pulire in prima tela con con dietro tracce di firma e di data da leggere adesso lo leggerete siamo a Genova nel 700 siamo a Genova nel 700 prima tela opera in prima tela quindi opera da pulire opera mai toccata opera ancora in prima tela giratelo con una data e tracce di firma quindi maestro genovese della 700 le dimensioni sono 90 per 70 1000 euro la base 1000 euro la base e poi chiudiamo l'asta con una piccola serie di disegni qui siamo nell'800 italiano eccolo eccolo qui qui siamo nell'800 italiano questo doppio ritratto 15 per 18 virgola 4 penna e inchiostro penna e inchiostro marrone 23 il numero 54 abbiamo un bello studio l'abbiamo visto il retro o no vediamo il retro del 53 poi poi al numero 54 questo mi piace molto penna e inchiostro marrone 23 virgola 5 per 17 questa Susanna e i vecchioni siamo a Bologna ho quel non vi ho detto la base del doppio ritratto non vi ho detto la base del doppio ritratto 80 euro mentre questa Susanna e i vecchioni della fine del 7 primi dell'8 vi faccio vedere anche il retro la base è 100 euro la base è 100 euro lotto numero 55 queste figure orientaleggianti di maestro Veneto del 700 nei modi di Giovan Battista Tiepolo 18,5 per 15 la base la base è 200 euro lotto numero 56 questo è frammentato ma è bellissimo questo è frammentato è un maestro veneziano del 700 la mitica Rebecca Alpozzo 27,4 per 19,5 penna ed inchiostro marrone è frammentato ma comunque bellissimo 150 euro 150 euro 150 euro poi all'otto numero 57 siamo in Toscana nell'Ottocento questa veduta di San Geminiano 8 per 11,5 penna ed inchiostro marrone 50 euro quindi il lotto numero 58 seguace di Francesco Guardi inutile dire che siamo a Venezia nel 700 11,5 11,5 per 14,5 penna e inchiostro marrone 150 euro e l'ultimo lotto eccolo qui il lotto numero 59 maestro neoclassico studio per una fontana prima metà dell'Ottocento 19 per 11,8 ci sono delle macchie vedete 80 euro ecco qui abbiamo finito la presentazione delle schede tecniche abbiamo finito la presentazione delle schede tecniche e allora adesso dato che ho ancora un po' di tempo me lo permettete qualche commento me lo permettete qualche commento ma lo dico anche ai non collezionisti lo dico anche ai nostri clienti che magari non seguono le trasmissioni di pittura antica però amano la pittura e quando si ama la pittura mettere mettere immettere in una collezione di arte moderna un quadro antico straordinario è importante se voi venite a casa mia accanto a Schifeno accanto a Bai accanto a De Chirico ci ho messo il Cavaliere Berpino ci ho messo Antonio Ioli cioè quando si ha la possibilità di comprare dei grandi quadri ma grandi qualitativamente storicamente grandi perché importanti oh guardate che molto spesso i grandi quadri le grandi scoperte nascono dallo studio dei quadri che ci danno dei problemi perché poi migliorando lo studio migliorando la documentazione andando avanti con le ricerche certi quadri che prima attribuivamo magari prudentemente ad un artista meno importante poi vengono promossi poi perché quando si scopre il Caravaggio magari prima era un quadro attribuito a Battistello magari prima era un quadro attribuito a Valentin de Bologna magari prima era un quadro attribuito quindi perché adoro la pittura antica perché a differenza della pittura moderna nella pittura antica ci vuole intelligenza e studio intelligenza e studio nella pittura antica i pezzi di carta servono per documentazione ma non sono vedete uno dei più grandi studiosi che io ho conosciuto nella mia vita quando facevo una perizia cominciava la perizia con queste parole a mio parere la capite l'intelligenza a mio parere perché è giusto così perché questi che si preggiano di fare i cataloghi meglio che non parlo meglio che sto zitto vi rimando ve la faccio vedere in anteprima la puoi far vedere ve la faccio vedere in anteprima vi faccio vedere un anteprima una vignetta di Willow che concluderà il numero che sta per uscire di Artein se non vi siete abbonati abbonatevi guardatela ve la faccio vedere in anteprima dalle comunicazioni proprio da Willow in diretta aspetta che devo togliere il dito funziona adesso? sì ecco vai 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 in primo piano questa è la vignetta che vedrete proprio nella conclusione di Artein che andrà che si pubblicherà tra pochi giorni sapete qual è la dicitura se non la leggete bene? qui vedete un presentatore un mercante d'arte di fronte ad un cliente che illustra un quadro e dice questa è un'opera unica originale autentica autografa certificata archiviata pubblicata e anche benedetta ma l'autore non saprei è stupenda è molto adatta a quello che succede oggi non è molto importante l'autore è importante che sia pubblicata certificata archiviata però mi piace che i pittori prendono coscienza di questo gli artisti veri quindi dicevo prima ad un collezionista di quadri moderni mettere in casa un'opera antica di valore antica importante soprattutto quando capita una collezione come quella che stiamo per disperdere in quest'asta di domenica noi stiamo disperdendo una collezione clamorosa di uno studioso che ve lo dico francamente io l'ho conosciuto a lui delle autentiche non gliene importava niente tant'è vero che se le perdiva cioè non ci sono tanti quadri che andranno in asta che avevano un mare d'autentiche ma lui non gliene fregava nulla delle autentiche a lui piaceva parlare con gli esperti perché naturalmente parlando con gli esperti c'era il discorso l'approfondimento sentire i pareri gli interessava molto poi dopo del mantenere perché era un appassionato vero e in collezione ci sono dei quadri che valgono cifre da paura quel Francesco Monti quel Francesco Monti in mano ad un vero mercante di dipinti antichi in mano a Sotebis fa 200.000 sterdine fa 200.000 sterdine eccolo qui eccolo qui sì ma fallo vedere in grande fallo vedere in grandito perché l'opera è pazzesca quadro intatto quadro clamoroso quadro che non apprezzo quadro che non apprezzo dire 80.000 100.000 120.000 di un quadro del genere significa poi intatto immacolato intatto immacolato quello è uno dei grandi quadri del Settecento è uno dei quadri immortali del Settecento poi una cultura strepitosa tra Bologna e Brescia una cultura strepitosa importantissima per il Settecento italiano perché vola vedete vedete che vola vedete che vola vedete che vola questo è un quadro di una bellezza di un'importanza di una qualità di un fascino non a caso uno dei più clamorosi esperti che io abbia conosciuto e io ho conosciuto tutti da lunghi a zeri li ho conosciuti tutti ma Gilberto Algranti era pazzesco questo era uno dei quadri che Gilberto Algranti adorava quelli che lui non voleva vendere quelli che lui diceva aspetta 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 perché sono i quadri intatti i quadri che rappresentano perfettamente un'epoca i quadri che volano o quando un'opera del genere quando un'opera di questo livello credo che abbia una base di 20.000 euro e a 20.000 euro vi fanno comprare per macchio per macchiotti e a 80.000 euro vi fanno comprare un Boetti quattro lettere che non è manco Boetti perché di Boetti c'è solo la firma perché l'ha fatto un artigiano afgano amici ma siamo lontani da ogni considerazione etica morale siamo lontani da tutto questo vi voglio segnalare non tante opere ma voglio segnalare quattro cinque opere pazzesche pazzesche quindi una gemma del genere poi qualcuno mi dirà dice ma sai questo è un quadro adesso qui lo vado a ricercare per dirvi le misure questo è un quadro di un metro e settanta per un metro e trenta più la cornice diventa un quadro di due metri dico ho difficoltà ad ambientarlo va bene hai difficoltà ad ambientarlo ma una parete in verticale c'è a casa una parete in verticale a casa tua c'è quindi l'opportunità di inserire anche in una collezione di moderno un'opera del genere è meravigliosa è un'opportunità di quelle epocali è un'opportunità di quelle che non puoi dimenticare e il prezzo certo questo vedete quello che sta capitando ad arte investimenti aver avuto l'affidamento di una collezione del genere se fosse capitato ad una casa d'aste specializzata per l'antico un quadro del genere parebbe 120 mila euro oggi avete la possibilità di comprarla a due lire come avete la possibilità di comprare a due lire un'infinità di quadri un'infinità di quadri non lo so prendi quella Gian Giuseppo del sole eh questo questo collezione Cavallini Sgarbi adesso che non siamo nei motivi ufficiali ve lo dico aveva una stima aveva una stima tra 12 e 14 mila euro venne venduto a 18 mila euro più i diritti quindi chi lo comprò in finarte alla collezione Cavallini Sgarbi l'ha pagato 18 mila euro più i diritti d'asta noi l'abbiamo messo come base d'asta noi l'abbiamo messo come base d'asta a 5 mila euro vedi perché odio le schede perché con i quadri antichi non vedi un accidente eccolo il quadro queste sono opere che vi dovete vedere dal vivo queste sono opere che dovete smuovervi da casa venire qui e vederle in esposizione dal vivo la devi inclinare un pochino in avanti hanno il loro sapore hanno guarda che cos'è quest'opera di Gian Giuseppo del Sole oh guardate il commento ma non il commento in occasione di un libro il commento in occasione di una presentazione all'asta ma sono due pagine perché comincia da qui e finisce qua capite? questo per dirvi cosa va all'asta in questa tornata d'asta poi vi voglio far vedere ve lo voglio far vedere perché è una cosa straordinaria quel Giovanni Baglione Giovanni Baglione è Minerva che consegna le armi ad Enea è il lotto numero 42 è il lotto numero 42 guarda no è grande eccolo là guarda ce l'hai appoggiato laggiù accanto al Teglini credo no giralo sì è quello amici allora io qui ero presente ero presente l'ho visto con i miei occhi perché questo è un quadro che è stato nello studio di Maurizio Marini per sei mesi questo è un quadro che è stato nello studio di Maurizio Marini per sei mesi poi lui l'ha pubblicato ha fatto una scheda proprio è una pubblicazione sul ritrovamento di quattro opere di Giovanni Baglione e l'ha pubblicato oh quando ero in studio con Maurizio ma io questi personaggi ci giocavo a pallacanestro Maurizio non giocava a pallacanestro ma Giancarlo Sessieri sì ma Giancarlo Sessieri sì ci giocavo a pallacanestro e ci giocavo a pallacanestro a Palazzo Bernini ma comunque sono tutte cose che voi non potete sapere ho assistito una discussione che è cominciata un pomeriggio poi siamo andati a cena e quella cena non finiva mai abbiamo fatto le tre del mattino il padrone del ristorante che era amico di Maurizio Marini non vedeva allora ci cacciare voleva cacciare via naturalmente aveva ragione lui sulla datazione di quest'opera sulla datazione di quest'opera perché Maurizio Marini sosteneva che era Baglione Maturo 1620 1623 e andava alla ricerca di documenti che attestassero questa cosa Giancarlo era convinto che questo era un quadro dipinto da Baglione contro Caravaggio nel 1603 e 1604 nel 1603 e 1604 e sosteneva poi che fece pure una perizia che il proprietario non so dove cavolo l'ha messa ma ci sarà esisterà eccetera fece pure una perizia in cui attestava che secondo lui l'opera era del 1603 e 1604 fatta da Baglione per rispondere quando Caravaggio era in vita per rispondere alle istanze caravaggesche le famose capisci quadro intatto immacolato quadro pazzesco quadro pazzesco c'è una cornice antica che da sola se vai da uno di antiquari che vende le cornici antiche poi qualcuno dirà ne manca un pezzetto poi se vai da uno degli antiquari che ti vende le cornici antiche solo della cornice ti chiede 6.000 euro 7.000 euro quest'opera quest'opera pazzesca ha una base di 10.000 euro ma cosa compri quest'opera pazzesca che due dei maggiori studiosi degli ultimi 50 anni si sono battuti per definirne la data ma vi rendete conto vi rendete conto di quello che avete davanti agli occhi e di quello che potete comprare in un'asta come quella a cui avrete la fortuna di poter assistere domenica prossima è una follia è una follia ma io vi faccio vedere qualcosa vado a caso quale vuoi far vedere ma quello che ti paghi quello che vuoi vai a caso il manglard purtroppo dove 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 è il manglard eccolo lì eccolo lì eccolo lì beh guarda ti aiuto io sono cose talmente belle sono cose questo questo del Muzziano nemmeno parlo perché è uno dei quadri del Cinquecento più belli e più importanti della storia un'opera guarda guarda mettila su andiamo su un'opera da galleria corsini un'opera da grande museo da grande pinacoteca che l'hanno definito addirittura paesaggio protocomantico va verniciato perché è un pochino secco ma va verniciato ma è un quadro strepitoso in realtà con termini popolarischi questo è San Giuseppe questa è la Madonna questo è il bambino qui c'è la palma pasquale dai ma quadro da 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 follia quadro da follia poi bello perché di apertura paesistica poi bello di colori bello cioè non uno di quei quadri pesanti no poi in uno stato di conservazione meraviglioso eccetera quadro del genere non so la base adesso la vado a vedere ma anche qui sicuramente tieni 8 mila euro anche lì solo la cornice quando ve la danno 8 mila euro dico sono cose da follia sono cose da follia sono opere e talmente significative talmente belle mi prendi quei due piccolini lì quelle due temperine un pittore come Marco Ricci quelle due lì un pittore come Marco Ricci che costa centinaia di migliaia di euro due capricci due tempere su pergamena intatte immacolate due capricci di questa bellezza tipici clamorosi di Marco Ricci a 2 mila euro l'uno a 2 mila euro l'uno quando vi dico che in una collezione di arte moderna inserire delle non dico tante ma inserisci un dipinto antico un dipinto antico di grande rilievo di grande qualità mettici un'opera antica straordinaria qui parliamo di basi d'asta a cui comprate non le copie i falsi perché le copie costano di più qui avete degli originali a base d'asta talmente ridicole che il falso lo pagate di più ma il falso capite quando siete di pronte ad opere vere di questo sapore di questa qualità a questi prezzi amici bisogna saperne approfittare bisogna saperne approfittare io adesso vi do un consiglio guarda prendi quell'opera lì ora vi faccio vedere un quadro che è di una bellezza straordinaria ma che se andate alla Pinacoteca Vaticana rivoltato si chiama la mitica Madonna delle ciliegie la mitica Madonna delle ciliegie ed è una delle opere celeberrime di Federico Fiori detto il Barocci eccolo qui il ramo con le ciliegie lo rivoltate come specchiato ed è questo stato di conservazione perfetto i gialli il manto oh molti di voi non lo so un tempo si usava il capoletto oggi ma a me un quadro del genere io lo metto in salotto è di una bellezza poi se ci metti accanto opere moderne se ci metti accanto un Bai ma se ci metti accanto un Pinelli se ci metti accanto un Pinelli cioè ci metti questo quadro e poi una composizione rossa gialla di Pinelli ma viene una casa eccezionale viene una casa straordinaria ci vuole la testa per fare le cose certo se vi limitate al solito arredatore che vuole il divano così il televisore così il giradischi che non è più giradischi ma impianto ma che è una casa quella non la voglio nemmeno commentare è il qualunquismo è la pianificazione mentale è l'assorbimento totale dei principi della diffusione economica della mercificazione di tutto anche delle abitudini quotidiane tra poco ti imporranno la musica che devi sentire ma già te l'impongono non tra poco ma già te l'impongono e tu non te ne accorgi questa è la cosa più tragica no? perché se ciascuno di noi avesse la coscienza di questo si ribellerebbe mentre invece al 90% ciò avviene in maniera subdola in maniera tale te li ricordi quando io ero giovane ma anche quando tu Carmelo eri giovane si parlava dei mitici no non lo togliere si parlava dei mitici messaggi subliminali ma esistono ma esistono e ci condizionano nel consumo ci condizionano pure quando andiamo a fare la spesa e noi non ce ne rendiamo conto è come se ti dicessero che il rosso diventa verde e ti convincono che il rosso è diventato verde ma guarda ma lo so ma è così non lo so io sono nato in un momento diverso in cui c'erano gli amori in cui ognuno voleva esprimere se stesso la propria personalità se leggevamo io me lo ricordo quando il professore ci diceva di commentare l'Iliade non la commentavamo tutti nello stesso modo grazie a Dio ciascuno di noi aveva un'immagine del Pelide Achille ognuno di noi aveva un'immagine diversa in classe quanti eravamo 30 40 avevamo 40 immagini del Pelide Achille oggi i bambini hanno un'immagine sola quella cinematografica quella imposta dalla serie tal dei tali capisci? ma è gravissimo ma comunque comunque datemi retta seguite le passioni un quadro del genere ti appassiona qui vado a vedere le basi ma non lo so sono quanto oddio Carmelo sai quanto parte questo quadro? 2500 euro mancano zero ma no mancano zero perché dovrebbe dire 25.000 quadro pazzesco intatto 2500 euro di base quindi vi rendete conto di quello che significa l'asta di domenica 21 ma io lo dico a tutti i nostri amici chi compra Schifano è intelligente e dato che è intelligente non può non comprare un dipinto antico di grande qualità facciamo vedere il Van Lint facciamo vedere il Van Lint che è quello vediamo 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 dov'è perché poi sono tutti eccolo lì eccolo lì no no è lì è il primo il primo quello bravissimo no questo è uno dei mitici fiamminghi che arriva a Roma lo vedi in basso a destra lo vedi quel numero 200 tipico da museo quindi quest'opera era sicuramente non so la collezione Chigi la collezione Corsini matematicamente era in una delle grandi collezioni romane del 700 e sarebbe molto interessante perché qui addirittura al centro ci sono tracce di firma ma a prescina questo è Van Lint ma proprio matematico 110 per 10 per 100 cioè non non c'è possibilità di errore ma la cosa interessantissima è la concomitanza con Van Vitelli ma la cosa interessantissima è che queste erano vedute dal vero quindi sarebbe estremamente interessante per uno studioso andare a rileggere identificare il luogo identificare il luogo che l'artista ha voluto rappresentare in quel momento e di elementi caratteristici ce ne sono molti perché vedi questa fortezza sulla destra ma poi è bella l'atmosfera nordica perché hai l'atmosfera nordica trasferita nel mediterraneo cioè è quadro pazzesco quadro meraviglioso uno di quei quadri poi vedi anche qui stato di conservazione meraviglioso perché poi quando in un dipinto antico ti trovi di fronte ad una conservazione giusta e beh questo è fondamentale questo è letteralmente fondamentale guarda che meraviglia di quadro anche qui non le voglio nemmeno leggere perché se tu vai in una mostra d'antiquariato trovi un vallint così con 18 fari sopra dicono scusi quanto è 110.000 120.000 vai dal mio amico fraterno andavamo in Inghilterra insieme quando eravamo bambini il mio amico fraterno Lampronti che adesso ha aperto una galleria a Londra quadro così 110 120 130 ma è normale qui c'è una base d'asta ridicola qui c'è una base d'asta ridicola quadro meraviglioso e tra i quadri straordinari il Baglione il Monti il Ballint quelle due piccole gemme di Marco Ricci adesso poi ti voglio far vedere una cosa così proprio da giochetto qual è quello studioso qual è quello studioso che di fronte ad un ritrettino su carta giovanile riportato su tela di Giacomo Ceguti il pittore più popolare del 700 Lombardo colui che sapeva dipingere sapeva fare i ritratti ai personaggi più ricchi quindi colui che sapeva frequentare l'aristocrazia più esclusiva del suo tempo e al tempo stesso raffigurava i popolani raffigurava le scene popolari le scene contadine ma questa è una gemma allora un museo un direttore di museo che non si compra un quadro del genere è meglio destituirlo dal suo incarico ed è sai da quanto parte quest'opera da 1500 euro è chiaro che ne vale 20.000 è chiaro che ne vale 30.000 minimo è chiaro che 1500 euro sono una provocazione ma perché non provarci ma perché non partecipare all'asta perché non entrare proprio in quest'ordine di idee guardate sono 59 lotti ma sono 59 assurdità eh dal lotto che parte da 100 euro dal disegnino che parte da 100 euro al monti che parte mi pare da 20.000 adesso non me lo ricordo ma ecco ma sono 59 assurdità ed essendo 59 assurdità ma perché non approfittarle ma perché poi io lo so che verranno tutte aggiudicate ma sui 59 lotti 50 se ne compreranno i rivenditori i mercanti gli antiquari e poi ti prendere poi andrai dall'antiguario c'è questo sotto i fagretti con 18 fari sopra naturalmente se c'era da fare qualche ritocchino alla cornice gliel'hanno fatto naturalmente è imbellettato è verniciato non è secco come il Manglard che vi ho fatto vedere pochi istanti fa ma è imbellettato inverniciato cioè scusi quanto è? 90.000 90.000 scusi quanto è? 90.000 ma è normale quindi avere l'opportunità di poter partecipare ad una asta di questo tipo con questi prezzi ve lo ripeto è una clamorosa fortuna è letteralmente una clamorosa fortuna mi dai i tempi Germelo? Sì dimmi quanto tempo ho 18 minuti allora in 18 minuti in 18 minuti vediamo ma sono indeciso perché i quadri importanti sono talmente tanti che veramente dici li dovrei presentare tutti dovrei prendere tutte le opere e allora vi voglio far vedere solamente un quadro da urlo questo guarda pesa lo portiamo insieme va bene che tu sei giovane e forte voglio far vedere uno dei quadri napoletani più belli del settecento vi voglio far vedere che poi c'ha una gordice c'ha una gordice meravigliosa antica coeva vera da urlo da urlo voglio far vedere uno dei quadri più belli del settecento perché sant'andrea ma sant'andrea non è il protettore degli automobilisti non lo so non me lo ricordo comunque è il pescatore c'è il pescatore pescatore di anime che si trasforma da pescatore di pesci a pescatore di anime Francesco De Mura io voglio chiedere a parte il quadro sei perfetto sei proprio come se siamo nel mille settecentosessanta mille settecentosettanta è come se l'avesse finito di dipingere ieri cioè proprio perfetto perfetto conservazione perfetto ah vedi la mitica croce di Sant'Andrea conservazione perfetta Francesco De Mura è un punto di riferimento non solo per Napoli ma per Torino perché De Mura è uno dei napoletani solimeneschi che nascono nell'ambito della scuola di Solimena che diffonde non solo il verbo De Mugliano ma diffonde proprio la cultura settecentesca ma diffonde la cultura settecentesca in Italia e nel mondo l'opera non c'è dubbio cioè questo tu di chi vuoi la perizia non mi devi chiedere sai sono quei quadri sui quali tu non devi chiedere c'è la perizia di qui qualsiasi studioso chi studia storia dell'arte e studia il sei settecento napoletano di qualsiasi generazione sia riconosce Francesco De Mura non sono quelli indubitabili sono quelli chiari proprio lampanti non quelli che noi definiamo i quadri facili facili significa facili da attribuire cioè che hanno caratteristiche pittoriche stilistiche e calligrafiche quello che io dico sempre per il moderno tali per cui l'opera è immediatamente riconoscibile è immediatamente riconoscibile ora un quadro del genere in questo stato di conservazione di questa bellezza di questa qualità è che degno di essere esposto in qualsiasi museo letteralmente degno di essere esposto in qualsiasi museo credo che abbia una base aspetta che lo vado a cercare aspetta che lo vado a cercare tu hai il numero eccolo qua l'ho trovato ha una base di 5.000 euro non compri la cornice non compri la cornice queste sono le realtà queste sono le realtà di quest'asta ma vi sto tirando fuori a caso qualche esempio no vi sto tirando fuori qualche cosa così proprio per farvela vedere ma quando vi dico che bisogna studiare tutto il catalogo e vi dico che avendone la possibilità bisognerebbe comprare tutto il catalogo dire scusi quant'è posso dire una cosa c'è un po' come si diceva un'opera così in televisione l'antico in televisione è ridicolo ve lo dice uno che studia l'antico da quando da quando ero bambino tra me è un ragazzo bravo che ho visto recentemente che presentava dei quadri discriti discriti però ai prezzi giusti ai prezzi giusti meglio che non parlo perché se parlo faccio danni se parlo faccio danni l'antico in televisione dai tempi in cui facevo le trasmissioni con Vittorio Sgarbi non si vede l'antico in televisione giusto o con Daverio ecco quelli erano i tempi in cui si vedeva in televisione l'antico giusto ma avere la fortuna poi non vi ho fatto rivedere un quadro che conosce tutto il mondo non vi ho fatto rivedere un quadro di un'importanza storica straordinaria e sai qual è? è il Tierini anche perché ve lo dico francamente ve lo dico francamente a parte la provenienza a parte la provenienza eccetera questo è un quadro che conosce tutto il mondo eccolo lì questo è un quadro che conosce tutto il mondo voi chiedete al direttore di musei vaticani al direttore di musei di uffizi al direttore del metropolitan di new york al direttore del non lo so ditemi voi quali sono i musei più importanti del mondo se voi chiedete al direttore della national gallery qual è il Tierini più famoso che è uscito sul mercato e Tierini nell'ambiente bolognese non è secondo nemmeno a Guidoreni non è secondo nemmeno a Guidoreni cioè questo nella cultura bolognese nella cultura bolognese oltre ad uno stato di conservazione qui c'è bisogno di un pizzico di vernice perfetto questo nella cultura bolognese è un quadro che non è secondo nemmeno al più clamoroso dei dipinti di Guidoreni è un pezzo di storia dell'arte universale è un quadro che un direttore di museo un grande museo dovrebbe comprare immediatamente è Santa Cecilia la Santa è Santa Cecilia con le teste dei santi Tiburzio e Valeriano cosa rappresenta la scena è Cecilia che sorregge con l'aiuto di un'ancella un vassoio lo vedete con le teste del marito Valeriano e del cognato Tiburzio il primo Valeriano era un patrizio romano convertito al cristianesimo proprio per sposare Cecilia che era fanciulla di fede cristiana che aveva offerto a Dio la propria virginità il marito fu battezzato e propiziò la conversione di suo fratello Tiburzio furono accusati di aver seppellito i corpi di alcuni martiri e vennero entrambi decapitati per ordine del prefetto Turcio al Macchio dopo di loro anche Cecilia essendosi rifiutata di sacrificare gli idoli e di abbiugare la religione cristiana fu condannata al martirio capite? questo è il perché di questo quadro è il ricordo di questo quadro tutte le pubblicazioni su Tierini tutti i libri che i vari storici dell'arte i vari critici hanno dedicato o al Seicento Bolognese o a Tierini in particolare hanno pubblicato quest'opera tutti poi se c'è qualcuno che mi chiede un expertise io ho un calcio in bocca no perché è come dire capito è come dire dai sono le cose che sanno pure i bambini uno studioso di storia dell'arte lo sa sono le cose universali come dire è si scrive con l'accento senza accento quindi non lo puoi non puoi sbagliare non puoi dire pubblicato ripubblicato strapubblicato eccetera 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 scusatemi voi sapete nel moderno non ve ne parlo ma ritorno a come ho esordito che uno dei più grandi studiosi di storia dell'arte uno dei più grandi studiosi di storia dell'arte e io li ho conosciuti quelli che hanno preceduto la mia generazione cioè quelli che mi potevano insegnare tutti da lunghi a zeri ad arcangeli a briganti con briganti io abitavo al primo piano di palazzo berlini lui era al terzo piano di palazzo berlini quindi ho avuto la fortuna di poter frequentare questi personaggi quindi quando sento un frescone che mi chiede una cosa sto male ma uno molti di questi personaggi che erano seri diversamente da come sono molti oggi che erano seri quando tu gli chiedevi un'expertise te lo ripeto l'ho detto prima ma te lo ripeto per chi non l'avesse capito o per chi non l'avesse ascoltato sai come cominciavano le expertise a mio parere a mio parere perché perché erano gente seria perché erano persone serie capitemi se vuoi tu leggi adesso non voglio fare i nomi ma se tu leggi l'expertise di questi signori cominciano con questa piccola frase che è fondamentale quadro quadro che non apprezzo quanto puoi chiedere questo dipende da chi ce l'ha ce l'ha il più grosso anticoerro di Londra un milione di dollari ce l'ha il più grande anticoerro di Londra scusi quanto è un milione di dollari nessuno ti può dire nulla perché nessuno può mettere in dubbio che questo sia uno dei capolavori assoluti di Alessandro Trierini quindi puoi chiedere quello che vuoi dipende dal cliente che hai uno dei più grandi antiguari del mondo può chiedere un milione un antiguario medio milanese o romano o parigino duecentomila perché? perché ha clienti da duecentomila e quello può chiedere un milione perché? perché ha clienti da un milione noi vi chiediamo credo ventimila di base aspetta vado a controllare perché non vorrei dire non vorrei dire un'inesattezza o una sciocca no, 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 giusto noi vi chiediamo ventimila di base d'asta poi se parà sessantamila o ventiduemila non lo so dipende solo da voi dipende solo da voi ma quest'asta vi propone delle opportunità che non esistono in un'asta italiana almeno da vent'anni sono almeno vent'anni che non avete la fortuna di incontrare una collezione così importante a condizione di prezzo a cui comprate i falsi non le copie i falsi quindi a condizione di prezzo assurde a condizione di prezzo vi ho fatto vedere alcune cose quel ritrettino di sceluti giovani a 1500 euro ci sono dei quadri a 2000 euro a 3000 euro che ne valgono 20.000 30.000 quindi proprio dal punto di vista dei prezzi sono almeno vent'anni che non vi capita una collezione del genere a prezzi del genere cosa devo dire che non approfittarne è un delitto iscrivetevi 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 se non siete già iscritti perché coloro che si sono iscritti per le aste di Moderno sono già considerati iscritti ma se non siete ancora iscritti alle aste andate subito sul sito di Arte Investimenti trovate prima di tutto tutto il catalogo d'asta d'antico quindi potete leggere approfondire ma poi perché non li venite a vedere perché i quadri antichi un conto è la piccola fotografia così un conto è quando te lo vedi da vicino è tutta un'altra cosa quindi voi chiamate in sede fissate un appuntamento venite vi vedete tutta la mostra vi leggete tutti i quadri quindi iscrivetevi all'asta andate sul sito di Arte Investimenti per vedere il catalogo vi aspetto qui vi aspetto qui per vedere i quadri e vi aspetto domenica mattina per partecipare all'asta grazie della vostra attenzione grazie ai miei giovani collaboratori abbiamo scelto il più giovane e il più bello per farlo faticare grazie ai miei collaboratori e grazie a tutti i nostri tecnici con tutto il cuore alla prossima grazie a tutti